Musica Benvenuti al TG10, in apertura del telegiornale oggi vi proponiamo un'intervista al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Fernando Asaro. Il capo della procura sottolinea che Gela è una città complessa ma che ha tanta voglia di legalità e le denunce ne sono la testimonianza più evidente, ribadita purtroppo anche la carenza di giudici che si registra nel presidio. Dallo suo insedimento a Gela, datato 4 luglio scorso, sono passati due mesi e 17 giorni ma il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale, Fernando Asaro, ha già un quadro chiaro su come si sviluppa la quotidianità locale tra pregi e difetti. Il magistrato conosce bene Gela, quando ha lavorato alla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta si è proprio occupato della malavita gelese ma da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata. È una realtà sicuramente cambiata, si vede anche girando per strada e vedendo anche la possibilità di verificare all'interno del mio ufficio un aumento del numero delle denunzie, della domanda di giustizia e di legalità che è sicuramente più presente rispetto a qualche anno fa. Ma qual è l'emergenza che inseguite quotidianamente? Il termine inseguire è determinato dalla circostanza delle enormi difficoltà in cui ci troviamo ad affrontare la quotidianità per la carenza di personale amministrativo, per la carenza anche di magistrati. Rispetto a un organico di cinque magistrati noi attualmente siamo in tre più il procuratore con una collega che sta andando via perché ha finito il periodo di applicazione. Quindi le realtà più frequenti attengono a quel tipico fenomeno gelese che è l'incendio, il danneggiamento seguito dall'incendio delle autovetture che rimane sempre a carico di gnoti, spesso a carico di gnoti. Anche perché quando noi sollecitiamo e stiamo cercando di intervenire in questo per comprendere quali sono le motivazioni di un determinato gesto sentendo la persona offesa, chi ha subito il fatto delittuoso, c'è ancora un po' di resistenza a dire anche un minimo di indicazione, di sospetto, di elemento che possa portare all'individuazione degli autori di reato. E accanto a questo ci sono anche delle situazioni relativi a reati ambientali che sono comunque pur sempre presenti nonostante la chiusura del petrol chimico già da qualche tempo che ci impegnano con una certa frequenza oltre ai fenomeni ordinari che noi andiamo a riscontrare che sono sicuramente presenti in una realtà con circa 80.000 abitanti qual è quella gelese. Molti operai dello stabilimento non lavorano più, c'è il rischio che possono essere attratti dalla malavita? È possibile, sicuramente dal mio punto di vista posso dire che sicuramente è appetibile dalla criminalità organizzata chi non ha un lavoro, non ha una stabilità, non ha una risposta da parte dello Stato. Però non aspetta a me evidentemente fornire risposte concrete sotto questo profilo. Denunciare ogni forma di prevaricazione, denunciare sempre. Bisogna denunciare anche in maniera motivata, sensata, pensando che la procura o il procuratore o i sostituti che poi sono un unico ufficio, l'ufficio della procura non è fatto dal procuratore ma dai magistrati e dal personale amministrativo e dalla polizia giudiziaria, sia una denuncia sempre mirata. La procura non è il confessionale, non è un, come in alcuni casi ho detto, un luogo dove poter sfogare i propri rancori o le proprie frustrazioni, è un luogo istituzionale deputato a ricercare autori di determinati fatti di reato sulla base e anche a qualificare determinati eventi come notizie di reato e fatti di reato, in presenza però di denunzie che siano qualificate, specifiche, dettagliate e non oggetto di confusione o di dissidi di altro genere. Verso il referendum costituzionale, le ragioni del Sì è l'argomento che sarà trattato domani alle 18 nei locali dell'autore Sileno di Gela su iniziativa dell'associazione Centro Studi Salvatore Aldisio. Modererà Lillo Giardina, presidente del centro, saranno presenti Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana e Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera dei Deputati. La Polizia Municipale di Gela multa i mezzi della Tecra, l'azienda che si occupa della raccolta e smaltimento di rifiuti e decurta tre punti dalla patente ai conducenti delle moto ape sorpresi a bordo del mezzo forzatamente attrezzato di contenitori nella parte posteriore. A denunciarlo è stato il segretario generale della CGL, Ignazio Giudice, al termine di un incontro con i lavoratori della Tecra e ha convocato al fine di affrontare alcune criticità che da settimane attraversano i dipendenti e i cittadini. La CGL, si legge in una nota, assieme ai lavoratori, già un mese addietro aveva chiesto alla Tecra la presenza tra l'altro del vice sindaco di usare un metodo alternativo e la stessa azienda nel confermarlo ha anche ribadito che al Comune è stata segnalata l'inopportunità di procedere con questo metodo di raccolta vetro. Come previsto, il controllo da parte della Polizia Municipale ha avuto effetti sui lavoratori e sulla stessa azienda tanto che sono stati elevati 90 euro di multa e ai lavoratori sono stati decurtati, come dicevamo, tre punti dalla patente. La multa sarà pagata dalla Tecra ma la CGL da subito ha informato la stessa società che nessun lavoratore è disposto ad accettare questo metodo. Lo stesso problema si pone per la raccolta pannolini e pannoloni. Il Corpo di Polizia Municipale non condivide che i rifiuti siano esposti e quindi appesi nella motoape oltre tra l'altro alla differenziata che deve continuare e non tutti i rifiuti ovviamente non possono andare nello stesso contenitore. La CGL inoltre ha chiesto un incontro urgente al sindaco perché le questioni di carattere organizzativo su un tema così delicato sono di sua responsabilità sia perché lo stesso è garante della salute pubblica sia perché vige la certezza della responsabilità in solido e a maggior ragione se si riscontrano uno o più pecche dalla Tecra inerenti le scelte compiute sul metodo di raccolta. La CGL continuerà a monitorare il servizio e a segnalare le anomalie. Un un po' più ascolto, chiudere nota e umiltà sarebbero ingredienti indispensabili. Partiranno lunedì 26 settembre gli interventi di dilatizzazione a Gela. Lo ha reso noto l'assessore comunale all'ambiente Simone Siciliano. Fino a mercoledì 5 ottobre, personale specializzato agirà in tutti i quartieri. Il calendario della dilatizzazione con le zone interessate è disponibile sul sito internet del Comune. Ai cittadini è rivolto l'appello a non toccare o danneggiare le esche utilizzate nel servizio. Cambiamo argomento. Con le nostre telecamere oggi abbiamo seguito l'incontro che si è svolto al liceo classico Eschilo di Gela alla presenza del sovrintendente ai beni culturali di Siracusa, Rosalba Panvini. Il valore degli studi classici nell'era del digitale e l'attività dell'archeologo sono stati al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela tra gli alunni e Rosalba Panvini, docente all'Università di Catania e sovrintendente ai beni culturali di Siracusa. Nel corso dell'incontro la Panvini e il dirigente scolastico Giacchino Periteri hanno annunciato la collaborazione tra università e liceo negli scavi che la stessa Panvini avvierà tra qualche mese nell'area di Bosco Littorio. Spero di poter fare campagna d'acquisti tra gli studenti coinvolgendoli peraltro in uno scavo che l'Università di Catania intende promuovere riprendendo la ricerca Bosco Littorio e facendo in modo di far partecipare non solo gli studenti del corso di laurea ma anche gli studenti del liceo. Un modo per poterli già indirizzare, qualora lo volessero poi fare, alla professione di archeologi, che comunque è sempre affascinante anche quando si fa da non archeologi, perché in effetti sappiamo che molta gente ha questa passione per l'archeologia che coltiva, come diceva Freud, forse per riscoprire se stessi. I rapporti tra il liceo classico di Gela e le università, in particolare con quella di Catania, sono sempre stati intensi e ricchi perché Gela esprime quindi il liceo classico come punta di diamante e una grande ricchezza di tipo storico, di tipo archeologico, di tipo culturale, per cui siamo strettissimamente collegati, non solo per Agon, ricordo a tutti che la Presidente della nostra Commissione è stata una docente dell'Università di Catania. Per cui diciamo che questo rinsaldamento dei rapporti con l'Università di Catania per il tramite la dottoressa Panvini, che conosce bene, e quindi è un punto mediano tra Gela e l'Università di Catania, conosce bene la ricchezza di Gela, può darci la possibilità di orientare gli alunni verso gli studi classici, verso i beni culturali, queste sono delle professioni che servono, sono utili, non soltanto per il recupero della classicità, ma anche perché danno prospettive anche di lavoro. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico, l'anno scolastico 2013-2014, lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione, Licia Abela. I beneficiari degli eventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. È stato presentato oggi il Biologic Fest la tre giorni, prevista per il prossimo fine settimana al Ludovillage di Gela. La manifestazione patroginata dal Comune ha come principale intento quello di sponsorizzare e promuovere il mondo della sostenibilità dell'ecologia e del biologico con particolare attenzione ai vari usi e utilizzi della canapa. Oltre alla programmazione di convegni e dibattiti, mostre, concerti e di G7, infatti saranno presenti espositori di vari settori, agricoltura biologica, bioedilizia, biotecnologie, editoria specializzata, arredamento naturale, eco-mobilità ed eco-giochi. Sentiamo. Giorno 23, 24 e 25 settembre, perso il Ludovillage Area Macchitella, è prevista la prima edizione di Biologic, una fiera in cui si parlerà di coltivazione biologica, utilizzo della canapa per le matrici agroalimentari, medicale, industriale e risanamento ambientale. È un'occasione per confrontarsi con il mondo della trasformazione dei prodotti biologici per le applicazioni di uso comune. Sono previsti dei convegni, delle società che vengono anche dall'estero a spiegare come hanno trasformato la canapa in prodotti di uso comune. È un'occasione per confrontarsi con la nuova industria, l'industria sostenibile, l'industria green, che questa amministrazione sta abbracciando per ridare un nuovo volto industriale alla città di Gela. La canapa è una pianta che si coltiva, si coltivava anche qui a Gela da 10.000 anni, è terminata con l'avvento della petrolchimica ed oggi sta ritornando prepotentemente in tutto il mondo perché ci ha dato dimostrazione che possiamo non solo bonificare in parte i terreni ma anche ricavare tante applicazioni, tra cui proprio quello che ci dà la petrolchimica, quindi a partire dalle energie, dalla plastica, dai tessuti, la carta, la biodilizia e fino a 50.000 applicazioni in maniera sostenibile perché rispetta l'ambiente volendo pochissima acqua, non chiedendo pesticidi e avendo un equilibrio perfetto di CO2. Per cui ad esempio Gela potrebbe essere candidata come sede di un polo tecnologico della canapa industriale che si coltiverebbe in tutta la Sicilia come già si sta iniziando a coltivare e poi verrebbe trasformata potendo dare una grande possibilità di occupazione, questa volta nel rispetto dell'ambiente. È stato pubblicato sul sito internet dall'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese, progetto infanzia con l'inglese per l'anno scolastico 2016-2017, modalità di accesso, essere docente madrelingua o in subordine, esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese. I termini di partecipazione sono previsti entro le ore 12 del 4 ottobre prossimo. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se e rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale, ricognizione di tutte le strutture sportive in grado di ospitare squadre di calcio e fari accesi sul campo di via Recanati a Gela. Il consigliere comunale di Adesso Gela, Cristiano Malluzzo, presenterà a breve un'interrogazione al fine di verificare il contratto di comodato d'uso del terreno di gioco ed in particolar modo di verificare la regolarità dei canoni che il gestore dell'impianto di via Recanati avrebbe dovuto versare a partire dal 18 settembre del 2014. Siamo venuti a conoscenza di alcune esigenze di società sportive che in mancanza di strutture che potessero accogliere si recavano o presso la spiaggia o addirittura sulla strada stessa per potersi allenare e fare preparazione atletica. Da lì l'idea di fare una ricognizione degli immobili comunali e vedere quale immobile potesse accogliere queste società di calcio 11. Mi rendo conto che c'è un impianto sportivo denominato Recanati che a partire dal comune è mai stato dato in gestione ad un'associazione sportiva. Vado a vedere che questa associazione da contratto doveva garantire delle ore al comune di Gela e oltre a questo vado a notare anche un non pagamento di quello che era il canone previsto della gestione d'uso dell'immobile verso il comune di Gela. Quindi con questa nota che io ho inviato ieri al sindaco, al vice sindaco, al settore patrimonio chiedo una valutazione dell'intera vicenda, quindi tutti quelli che sono gli atti amministrativi e dei contratti affinché si possa fare luce su questa situazione e poter permettere sin da subito l'accesso alle società sportive che fanno richiesta di spazi o di ore all'interno di quella struttura. Dunque adesso lei ha chiesto un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale per chiarire in maniera molto più dettagliata questa vicenda. Si chiede esattamente se dal 2014 ad oggi questa associazione ha fatto prevenire i pagamenti all'interno della tesoreria del comune di Gela e in qualche modo se l'associazione ha impiuto tutti quelli che erano ioneri contrattuali quindi anche l'adeguamento del campo di gioco, quindi l'omologazione che permetterebbe a tutte le società sportive, oltre di fare allenamento da dentro anche di sfruttare partite di campionato con un notevole vantaggio perché il comune di Gela e tutte le società sportive si ritroverebbero ben due cambi per allenarsi a giocare Enrico Mattei e il campo del Recanati lasciando libero il Vincenzo Presti alle prime squadre come il Gela Calcio e il Terranova Fino al 25 settembre si svolge Match It Now la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche anche Gela scende in piazza, sabato 24 settembre in Viale Corte Maggiore a Macchitella in collaborazione con la Croce Rossa, i VIP Clown di Caltanissetta e con il patrocinio del comune i volontari di Admo Gela e di Adoces Sicilia Ollus accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche l'appuntamento lo ricordiamo è per sabato nella zona dei muretti di Macchitella e adesso parliamo di calcio Gela Gladiator di domenica prossima si giocherà sul campo neutro di Leonforte Sarà il comunale di Leonforte in provincia di Enna ad ospitare la partita Gela Gladiator di domenica prossima a fischio d'inizio alle 15 sarà l'ultima gara che i biancazzurri giocheranno su un campo neutro la prossima infatti si disputerà regolarmente sul rifatto manto erboso del Vincenzo Presti appuntamento previsto per domenica 9 ottobre nel derby con Ligea Virtus dunque un ultimo sacrificio per chi ama il club calcistico locale che dopo tre giornate di campionato in Serie D è andato oltre le più rose aspettative Nasi e soci infatti forti dei sette punti fin qui ottenuti sono in condominio al comando della gradatoria in una nota la società preseduta da Francesco Duccio sottolinea di conoscere alla perfezione le problematiche che hanno investito il terreno di gioco del nostro amato stadio Vincenzo Presti problemi che in questi anni abbiamo affrontato e che adesso finalmente sono in via di risoluzione ogni filo d'erba di quel manto erboso è intriso dal sudore di noi tutti soprattutto dei nostri gradatori questo non può essere sottovalutato questa domenica però la gara Gela Gladiator come dicevamo si giocherà al comunale di Leonforte per permettere il completamento dei lavori sul sintetico del Presti un piccolo sforzo l'ultimo della stagione che affronteremo si legge nella nota con la consapevolezza che domenica a Leonforte non saremo da soli ci sarete come sempre voi i nostri splendidi tifosi che di certo non hanno paura di qualche chilometro solo per questa volta lo sedennese sarà la nostra casa e il teatro di questa vincente gara di Serie D non dobbiamo dirci altro continua la nota salvo darvi appuntamento domenica alle 15 a Leonforte noi con voi e voi con noi ovunque nel mondo forza Gela per l'occasione la società Bianca Azzurra ha sentito il bisogno di ringraziare la Lega Nazionale Direttanti di Roma il Comitato Regionale Sicilia e il suo presidente Lopresti le società Leonfortese e Football Club Motta per aver permesso al Gela di poter disputare questo importante match nella loro struttura sportiva per la partita di domenica sia i tifosi gioresi che quelli che arriveranno dalla campagna pagheranno 10 euro ai supporters Bianca Azzurri è stata riservata la tribuna coperta agli ospiti la gradinata mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del Comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Fiammina Morta, Roccazzella e Borgo Manfria termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si regano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni e vi ricordo sempre di consultare il nostro sito internet costantemente aggiornato tg10.it grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti